Ciao a tutti! Potevamo lasciarvi senza il menù di Natale quest'anno? Direi proprio di no! Allora, anche se virtualmente ci siamo riuniti ancora e prepariamo insieme il menù di Natale. Abbiamo pensato ad un menù fatto con ricette semplici e speriamo non banali, con ingredienti che comunque avete di sicuro già in casa e che si preparano in pochissimo tempo. Ragazzi, ci siete? Certo Benedetta, non potevamo mancare! Ciao a tutti! Eccomi, ciao! Sì Benedetta ci sono, ciao a tutti! Dai ragazzi, comincio io con i primi antipasti. Ho pensato di realizzare delle roselline di piadina, molto carine, e un bel tagliere di tartine. Ragazzi, qualcuno mi passa la maionese? Ma certo Benedetta, te la passiamo noi! Grazie! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti 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 Ragazzi tocca a voi Che ci preparate di primo? Benedetta abbiamo pensato a un bel risotto, gamberetti e limone E' veloce da preparare e piace sempre a tutti Grazie 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 a tutti Adesso ragazzi ci vorrebbe un bel secondo di pesce Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Le verdure con il pesce ci stanno benissimo! Sous-titrage ST' 501 Musique Che fame! Dai Ilaria, tocca a te con il prossimo secondo! Sì Benedetta, ho preparato uno sformato di patate con cuore filante di salsiccia e formaggio che è perfetto per stupire tutti! Musique 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 Grazie a tutti. 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 Questo tiramisù è buonissimo. Sì, però non può esserci un menù di Natale senza un dolce di Benedetta. Sì ragazzi, e quest'anno è proprio una figata. Ho preparato una torta girella a forma di tronco. Grazie a tutti. 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 modo per sentirci più vicini anche se siamo lontani quindi tutti insieme vi ringraziamo di aver passato ancora un anno insieme a noi e vi auguriamo buon natale ciao buon natale tanti auguri e buon capodanno ciao a tutti e buon anno nuovo